dicono che un elettricista o comunque qualsiasi persona che faccia un mestiere che ha dovuto imparare e nel quale ha dovuto apprendere trucchetti malizi eccetera non voglia mai rivelare cose vantaggiose per i concorrenti colleghi e invece non è così ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi vi parlo di un prodotto ma non un prodotto di un'attrezzatura di una specie di invenzione particolare riservata quasi al 100 per cento a chi svolge la professione di elettricista ma che magari può essere interessante anche solo da vedere per chiunque sia appassionato dunque robo system è un marchio che racchiude all'interno di di questo nome diversi prodotti diverse invenzioni diversi brevetti perché parliamo di prodotti brevettati diciamo innovativi o perlomeno fuori dal comune in molti casi oggi vi faccio vedere ad esempio un carrello per le bobine di cordina per il filo questo carrello non è stato inventato da zero esistono già dei carrelli per smatassare le bobine della cordina ma secondo me e secondo il produttore funziona meglio degli altri questo perché perché questo carrello è stato brevettato innanzitutto e poi viene prodotto interamente in italia ma da un elettricista quindi una persona che ha diciamo preso tutte le nozioni che ha maturato nel settore lavorandoci e ha messo in piedi questo prodotto perfezionandolo nei dettagli proprio per renderlo il più funzionale possibile in quello che è il suo lavoro svolgere le bobine di filo nel modo migliore possibile ho avuto modo di conoscere ivan che possiede il brevetto di questo oggetto e ho potuto apprendere che ci mette una passione in tutto quello che fa incredibile infatti oggi vediamo un prodotto ma non è da escludere che in futuro ci siano sorprese perché c'è tanta carne al fuoco il carrello per le matasse del filo avevo già avuto modo di conoscere nell'utilizzo tantissimi anni fa quando facevo il dipendente perché i miei allora adattori di lavoro avevano due di questi carrelli che non avevano niente a che vedere con quello che vedrete oggi perché erano fatti di legno erano ingombranti pesantissimi bisognava essere in due per caricarli un casino però il loro lavoro lo facevano perché comunque c'erano dei portabobine di legno che si incastravano sempre un sacco di problemi però quando si tirava il filo si riusciva a mettere dritto nei tubi perché il concetto finale di tutto questo ragionamento è arrivare a questo vantaggio comunque ora vi faccio vedere un attimo il sito vi faccio vedere il prodotto come si può scegliere quanto costa tutto quanto poi ce lo facciamo spedire e lo montiamo insieme questo è lo shop di robosystem l'indirizzo è robosystem.it troviamo un sacco di prodotti tra cui quello di cui parleremo oggi il chiocciolo easy componibile 12 nella pagina del prodotto troviamo già un video che rimanda a una presentazione su youtube tutta la dotazione di base e le caratteristiche del prodotto oggi vedremo la configurazione a 12 portamatasse che costa 403 euro iva esclusa ne aggiungiamo uno al carrello prodotto che richiederà una spedizione molto molto costosa perché è pesante ingombrante tra iva spedizione tutto quanto un oggetto che vi portate a casa con 546 euro è un investimento che potete fare per la vostra attività è un costo che ovviamente potete scaricare completamente ma che vi darà dei vantaggi a livello lavorativo veramente notevoli ora l'abbiamo ordinato l'abbiamo pagato vediamo cosa ci arriva ok intanto quello che riceverete a casa è un grosso scatolone quindi un'attenzione anche al dettaglio nell'imballo perché sennò potevano avvolgere tutto in un po di pellicola e materiale diciamo assorbente aiurti e mandarlo via invece scatola realizzata appositamente per questo oggetto vedete che c'è anche il marchio dell'azienda e attenzione perché quando arriva è sigillata su tutti i lati e su tutti gli angoli con il nastro del produttore se trovate quindi segni di manomissione o botte fate il ritiro con riserva perché le spedizioni sono assicurate ok dentro troviamo subito un catalogo dell'azienda quindi del chiocciolo del nostro carrellino per la cordina con tutta la brochure con le spiegazioni e con gli altri prodotti del marchio troviamo anche la brochure di roboguido che è un carrello diciamo motorizzato per infilare e tirare la sonda questo è un altro prodottino del quale magari parleremo più avanti troviamo poi il manuale del chiocciolo easy quindi nello specifico oggi parliamo dello smatassatore a 12 matasse rilegato e stampato in italiano con tutte le avvertenze le indicazioni da seguire per il corretto uso tutta la procedura di montaggio le varie composizioni realizzabili le configurazioni per il trasporto anche le dichiarazioni di conformità e la garanzia troviamo subito una protezione interna per proteggere il contenuto e come potete notare il contenuto è perfettamente collocato all'interno di questo scatolone con tanto di protezioni e parti più piccole imballate in singole scatole iniziamo a tirare fuori tutta questa bella roba che c'è in questo scatolone questi sono i porta matasse dovremmo trovarne 12 in questo caso potete comprarlo a 4 8 12 ma per un utilizzo diciamo comune che può farne un elettricista 12 è il numero più adeguato abbiamo quindi tirato fuori 12 porta matasse su uno di questi ha legato un sacchetto con le rondelle necessarie al montaggio sono tutti marchiati robosystem è un prodotto ricordo brevettato sono semplicissimi nella loro composizione ma hanno una struttura che è stata calcolata dimensionata e prodotta in italia con una plastica di altissima qualità che ha un minimo di flessibilità per garantire massima robustezza questa qui non vi si spaccherà mai troviamo poi un altro porta matasse questo qui è diverso perché equipaggiato e strutturato in modo diverso questo è un optional che ho preso a parte e serve per avvolgere la sonda questa vedremo che è molto molto comodo troviamo poi all'interno nel fondo tutta la struttura del carrello guardate che bella tutta zincata protetta per il trasporto in modo adeguato bene una volta sballato tutto il contenuto questo è quello che dovremmo ritrovare tutti i porta matasse i due moduli a quattro matasse 1 2 3 4 ognuno tutte le parti che compongono il carrello che per questione di spedizione viene disassemblato ma adesso vi farò vedere come si riassembla troverete anche due moduli a due matasse prima di buttare l'imballo verificate di aver trovato tutti i pezzi pezzettini necessari alla composizione del carrello ci sarà quindi la struttura principale due ruote quattro rondellone importante sei di queste spine una barra piena bella pesante che diciamo l'albero delle due ruote un pomello e poi il tubo con le due manopole delle quali una è già infilata e una la troverete da infilare dopo basta semplicemente aprire il carrello facendo questo movimento da questa parte del carrello in questa zona su un solo lato c'è un bullone saldato dove dovremmo avvitare il pomello di bloccaggio serve ad evitare che il carrello si chiuda dopodiché vi faccio vedere come si assembla l'albero delle due ruote identificando questi fori sul perno infiliamo la prima spina e con l'aiuto di una pinza la apriamo in questo modo usando anche il pavimento e il peso stesso del perno in modo che non possa più scappare mettiamo quindi una rondella una ruota poi mettiamo di nuovo una rondella e blocchiamo la prima ruota di nuovo con la spina con lo stesso sistema e in questo modo la ruota non può scappare ma lavora correttamente notare che le ruote sono molto molto robuste e all'interno hanno i cuscinetti preparata quindi la prima metà della barra dobbiamo inserirla in questo foro sul carrello un lato vale l'altro una volta inserita la barra nel carrello questa volta andranno messe due spine nei fori stando all'interno della struttura sia a sinistra che a destra arrivati quindi a questo punto rondella ruota rondella e l'ultima spina e arrivati ad avere il carrello con le sue ruote assemblato la struttura è terminata bisogna solo più mettere il tubolare con le manopole basta quindi inserirlo da un lato e completare il montaggio inserendo la manopola anche da questa parte in questo modo il carrello è finito è pronto per essere trasportato avanti indietro notare che la presenza di questa ruota non è casuale ma è perfettamente posizionata e bilanciata per permettere che lui possa ruotare per invece deporlo o trasportarlo si può tranquillamente svitare il pomello laterale chiuderlo e lui occupa ancora meno spazio ora prepariamo i supporti per il porta matasse che andranno inserite in questo modo ma per inserire due porta matasse inferiori che comunque farete solo una volta bisogna diciamo togliere la struttura del secondo piano che ha solamente una vite passante vite passante che ha una testa croce e un controdado da 10 prima di inserire i due porta matasse inferiori dobbiamo usare una delle 12 rondelle che avete trovato nel sacchettino attaccato a un porta matasse prendere la rondella appoggiarla sul tubolare e inserire il supporto e voilà messi due supporti inferiori possiamo rimontare il secondo piano di supporti ora mettiamo il porta matasse del secondo piano è il primo modulo con quattro porta matasse è pronto facciamo la stessa cosa per il secondo se avete preso anche i due moduli a due porta matasse si assemblano allo stesso modo ora siamo pronti per assemblare tutto il carrello non dobbiamo fare altro che prendere tutto il modulo con il porta matasse e infilarlo su questo perdo quadrato una parte più lunga va verso il lato anteriore quello dove fuoriesce il filo dopo averlo infilato possiamo tirare questa vite di sicurezza che serve per non farlo sfilare involontariamente il carrello in questo modo è pronto in configurazione a otto porta matasse se vogliamo arrivare a 12 basta smontare la maniglia in questo modo e appoggiare sopra il modulo a due porta matasse con lo stesso sistema inseriamo in questo caso la maniglia sull'ultimo modulo perché se magari su questo modulo mettiamo ad esempio la cordina da 6 all'occorrenza se dobbiamo fare un altro tratto dove servono solo quelle due cordine basta allentare il modulo portarlo via e in questo modo viaggiamo con il modulo e due porta matasse quindi massima modularità aggiungendo anche il modulo anteriore da due questa è la configurazione a 12 matasse se acquistate anche il porta sonda basta montarlo su un modulo con due porta matasse al posto di un porta matasse standard adesso vi faccio vedere come sarà sufficiente togliere il porta matasse normale sempre tenendo al suo posto la rondella inserire il porta sonda fissare questo tubicino con la vite lunga in dotazione in questo esatto punto della struttura dove troverete un foro fino ad ottenere questa configurazione la sonda una volta passata attraverso questo tubo andrà automaticamente a rotolarsi e srotolarsi nel supporto rotante mentre dall'altra parte abbiamo un porta matasse per una cordina normale vi faccio anche notare che tutti questi buchi queste staffe non sono messi lì a caso ma hanno uno scopo ben preciso abbiamo il porta forbice tre fori per i cacciaviti e sfruttando questa farfalla abbiamo anche il porta nastro isolante in questo modo andiamo in giro con i cacciaviti necessari le forbici il nastro una cordina che può essere una terra o quello che state usando al momento e anche il porta sonda tutto comodamente appeso qui come funziona tutto il sistema una volta messa qui la matassa di cordina facendo fare questo senso al filo si fa passare in questi occhielli sfruttando un movimento rotatorio del supporto agevoleranno l'uscita del cavo per farvi vedere come funziona l'ideale non è il garage dove giro i video ma lo portiamo direttamente in cantiere ho giusto un alloggio da infilare vediamo se fa a caso nostro bene ora vi faccio vedere come il carrello chiuso occupi effettivamente poco spazio anche in un furgone piccolo come il mio il vantaggio è di avere già i moduli con le matasse caricate pronti da mettere sul furgone in questo caso nel porta sonda io ho messo una sonda spiralata in poliestere da 20 metri senza nessun problema la sonda esce dalla rotolatore in modo molto molto fluido e semplice perché il tubo all'interno ha una parte scorrevole che agevola il passaggio la stessa cosa ovviamente per arrotolarla nella sede il filo si carica in modo molto semplice basta togliere completamente la matassa dall'involucro prendere la parte esterna quindi non il centro come siamo abituati di solito e farlo passare attraverso l'occhiello una volta caricate tutte le matasse almeno durante il trasporto consiglio di fare un nodino per evitare che si srotolino da sole il funzionamento è semplicissimo ma il movimento uniforme delle matasse che si srotolano lo stesso modo e che passano attraverso questi occhielli stando perfettamente dritte e pettinate è il vantaggio finale che otterremo dall'utilizzo di questo carrello perché come ben sappiamo i cavi infilati diciamo tirati via dalle matasse dal centro molto spesso si arrotolano passando nel tubo è vero che in un tubo vuoto passano ma domani nel momento in cui bisogna infilare altri fili diventa difficile vedete io in questo caso la sto tirando da una parte da solo e dall'altra parte c'è l'operatore che filma il movimento della cordina che avviene in modo assolutamente uniforme e senza nessunissimo sforzo anche nell'infilaggio su 503 alte abbiamo il vantaggio di poter usare carrello che tiene pettinate i fili ovviamente c'è il problema dell'attrito arrivando dal basso della cordina sulla scatola stessa o sul tubo in questo caso è consigliabile operare in due vi faccio ora vedere un altro accessorio un complemento che si può aggiungere al nostro carrello che si chiama smatasso smatasso è un accessorio molto molto utile soprattutto se avete a che fare con cavi multipolari che possono essere quindi singolo doppio isolamento in grosse matasse magari anche da due trecento metri perché è un supporto molto grosso che vi permette di mettere sopra le matasse di cavo e srotolarle allo stesso modo della cordina e questo vi fa guadagnare un sacco di tempo e riuscite a lavorare molto molto meglio perché sappiamo tutti che in precedenza non avendo uno sbobbinatore bisognava prendere la testa del cavo dal centro della matassa e farci magari un piazzale srotolando e stendendo il cavo perché lo facevo anch'io e tutta questa fase andiamo uno ad eliminarla a livello di tempo due non dobbiamo mettere il cavo per terra che comunque può raccogliere impurità e tutto quanto e soprattutto lavoriamo tutto in un altro modo serve anche per mettere sopra direttamente le matasse del corrugato molto molto utile secondo me quando fate ad esempio tanto cartongesso perché vi trovate magari a srotolare una bobina di cavo per chissà quanti metri ma anche lì anziché tirarla dal centro e doverla ruotare su se stessa per metterla dritta sbobbinandola dall'esterno viene una cosa automatica e perfetta che è questo non vi spaventate ora sballo tutto lo monto vi faccio vedere cos'è tra l'altro quando sballate un qualcosa che è fermato con delle fascette se voi tagliate la fascetta prima della testa e togliete il pezzo in eccesso questa è una fascetta che si può ancora riutilizzare come si assembla abbiamo tre di questi perni con sotto due rondelle e un filetto con la farfalla andranno montati su queste asole quindi un perno per asola in modo da determinare il diametro del supporto centrale questo perno centrale va montato sotto allo sbobbinatore servirà solo una chiave da 17 in questo modo lui è pronto ci sarà poi questo supporto da mettere sul carrello e questo passacavo ora vediamo come per utilizzare questo accessorio abbiamo bisogno del supporto del carrello libero da tutte le strutture su questi fuori in una posizione centrata dobbiamo aggiungere questo accessorio basterà montarlo svitando i due dadi a farfalla in questo modo avremo oltre a tutti i passacavo piccoli anche un passaggio molto più grosso per cavo multipolare di grossa sezione o tubo corrugato bisogna poi prendere questo supporto è semplicemente infilarlo sui soliti perni quadrati in questo modo lui va a posizionarsi e queste due alette laterali lo tengono fermo sulla struttura perché tirando cavi di grossa sezione e con grosso peso andremo a sforzare parecchio sulla struttura in sé quindi per non gravare sul perno quadrato abbiamo queste due alette laterali che aiutano a tenerlo in posizione fatto questo basta semplicemente prendere il supporto e appoggiarlo qui e in questo modo avremo la possibilità di srotolare anche cavo multipolare molto grosso senza bisogno di stenderlo o di essere in due insomma abbiamo visto la qualità costruttiva del prodotto che è altissima è molto molto robusto e chiaro non pesa 20 grammi perché non è di plastica però sarebbe stato un prodotto fragile non sarebbe durato nel tempo questo qua lo comprate una volta ve lo portate fin quando andate in pensione di sicuro avete visto che non è difficile da caricare perché comunque essendo modulare potete caricare un pezzo alla volta è fatto anche per lavorare in completa autonomia da soli sì chiaramente se fate gli impianti come li faccio io con dei tiri corti è un conto se avete da fare magari dei tiri di 15 metri 20 metri di tubazione che non si dovrebbe ma che qualcuno fa in quel caso è consigliabile essere comunque in due perché il carrello comunque ti srotola il filo te lo fa in terra dritto ma è sempre meglio accompagnarlo da una parte e per questa cosa non è da escludere che un giorno non si possa fare il video dell'altro prodotto che vende robo system che è un robottino per tirare la molla ma questo magari ci arriviamo poi insomma un prodotto notevole chiaramente una dotazione super professionale riservata solo a chi opera in questo settore ma nulla dieta di comprarselo anche per fare qualche lavoretto o per puro sfizio se avete qualche dubbio potete chiedermelo nei commenti potete scrivermi all'assistenza o contattare direttamente robo system che può darvi tutte le delucidazioni del caso questo carrello ovviamente è entrato a fa parte della mia dotazione di attrezzatura e me lo terrò con cura perché di anni da lavorare ne ho ancora quindi mi aiuterà di sicuro spero che il video vi sia piaciuto ma soprattutto che sia stato utile se chi lo sta guardando è un professionista in ogni caso vi chiedo solamente un bel like se vi è piaciuto soprattutto iscrivetevi al canale troverete i contenuti nel mio canale telegram i link in massidattoli in questo caso no ma tutti gli altri prodotti li trovate anche nella mia pagina amazon massidattoli tech solution io vi ringrazio ci vediamo al prossimo video a una diretta del giovedì sera ciao da massidattoli ciao 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 ciao